Grazie dottoressa Sasso, anche a dottor Paolo Turati volevo chiedere l'associazione di consumatori a tutt'altro fine, comunque come ci si rivolge l'associazione di consumatori e appunto... Anche lì è nata una rete di sportelli, non proprio regionali, per cui le associazioni di eccellenza singolarmente rappresentano un terminale di questo sportello, quindi è un qualcosa di simile a questa sistemazione, qui abbiamo una centralizzazione e l'abbiamo le varie associazioni invece che fungono a loro volta e sono finanziate poco da questo sistema. Direi che il volontariato in questo caso rappresenta una eccellenza tutta da sfruttare anche da un punto di vista meramente economico, perché consideriamo che al giorno d'oggi... Io devo andare in pubblicità, deve essere breve, deve essere breve. Direi che al giorno d'oggi l'economia moderna cosa ha come valore implicito? Il tempo libero, no? Ecco, se il tempo libero viene utilizzato nel volontariato, ecco che utilizziamo l'utile del dilettevole, cioè il risparmio di tempo per far risparmiare il pubblico.